Ciao, sono Emiliano Galli dell'Agenzia Immobiliare Remax Italcase. Oggi mi trovo in zona Spallette, tra la via Pisana e via Portuense e precisamente in via Siligo 10. Quello che ti presento è l'appartamento Matilde, un secondo piano con ascensore, con cantina e box auto, peraltro molto comodo e capiente, entrambe le pertinenze, è una costruzione del 2010. Un appartamento che è stato vissuto dagli attuali proprietari, prima in una coppia, adesso con una bimba, motivo per il quale questo angolo dove originariamente c'era il tavolo, la zona pranzo, è stato adibito ad andare a giochi. Nonostante questo c'è un piacevole spazio tra il divano e la televisione e loro hanno perfezionato e dato insomma quel valore aggiunto alla casa abbattendo anche questo muro, lasciando soltanto un mezzo muretto e così da queste due finestre, che danno entrambe accesso al terrazzo, entra una bellissima luminosità. Un altro punto di forza, oltre alla tranquillità della zona, è questo affaccio che è veramente bello, veramente bello. C'è questo terrazzo, più che vivibile, con un bel tavolo per mangiare e lo spazio per far giocare eventualmente dei bambini e un'area giochi qui sotto comunale. Rientrando in casa, è una casa ben distribuita perché c'è una perfetta divisione tra zona giorno e zona notte, quindi questa zona giorno con soggiorno in angolo cottura. Questo disimpegno sulla sinistra, un bel armadio a muro a tutta altezza del soffitto a 2,70 m, il bagno completo di sanitari, vasca e con una bella finestra anche questa, con un affaccio verso via silico, e la camera da letto. Una camera regolare, standard, comoda, dove loro hanno messo attualmente per necessità sia il fasciatoio che il lettino, ma che comunque rimane vivibile. È una palazzina appunto recente, come dicevo poco fa, perfetta per un single, perfetta per una coppia e trovandosi tra la Pisana e la Portuense è un punto strategico per chi deve utilizzare anche il raggiungimento del raccordo per lavoro e quant'altro. Se Matilde pensi che possa essere la tua nuova casa, contattami, a breve sulla destra ci saranno i recapiti. Per vendere casa, puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie a tutti.